Sandra Domez E siamo arrivati al momento di conoscere la nostra compagna di viaggio per un giorno, Sandra Domez, abbiamo appunto conosciuto all'inizio di questo nostro appuntamento, abbiamo giusto... Oh la la, faccelo a vedere, oh la la... Di anguille, abbiamo un o una ceramista... La signora, dicono, comportati da donna, non mostrare tutta quella pelle, copriti, non essere così provocanti, uomini non sanno resistere, mostrati sexy, mostrati hot, non sovranno resistere... Metti i tacchi, sei troppo vestita, sei troppo poco vestita, ti stai lasciando andare... Sì, una signora, comportati da donna, così dicono... Inverno alla luce del sol Sì, quando è imbronciata? Devo fare pure io la faccio... Un attimo, un attimo, un selfie, un selfie... Eppi, va tutta a te! Ma che ci faccio io le donne? Buo! Via, via, sciò, sciò, sciò! Buonasera, signorina Rodriguez, Martinez, com'era? Gomez Eh? Gomez Gomez Gomez